Sadhguru Namaskaram, hai detto nei tuoi precedenti discorsi che il 30% delle malattie appartengono al corpo, mentre le restanti sono create dalla mente. Voglio sapere se ti viene una malattia, come fai a sapere se è creata dalla mente o appartiene al corpo, e se è di natura psicosomatica, quale sarebbe lo schema emotivo e mentale che c'è dietro? Come lo scopriresti e lo correggeresti, se possibile? Grazie. Supponi che la tua mano destra si alzi, faccia cose strane e ti colpisca. Infilzi gli occhi. Hai un disturbo o no? Sì, non è così. Di sicuro ce l'hai. È esattamente quello che la tua mente sta facendo. Non è così. Si alza, saltella, ti fa male, ti infilza, ti fa piangere, ti fa soffrire. Hai un disturbo o no? Se la tua mano inizia a infilzarti, colpirti, picchiarti, decisamente sei malato. Non è così? Sì. Quindi, se i tuoi pensieri e le tue emozioni ti colpiscono, ti strangolano e ti torturano ogni giorno, non stai forse male? Sto chiedendo. Seguo la tua stessa definizione. Quindi, siccome questa malattia è attiva, si manifesterà in così tanti modi nel corpo fisico. Non c'è più dubbio. Ogni pensiero, ogni riverbero a livello della mente, a seconda del tipo di riverbero che crei, tutta la chimica sta attraversando un cambiamento. È stato tutto misurato. Adesso ti sedi qui e pensi alle tigri. Hai un tipo di chimica. Accadono dei cambiamenti chimici. Pensi ai fiori. Succede un altro tipo di cambiamento chimico. Tutto questo è stato misurato. Quindi, per ogni pensiero, se tutta la chimica attraversa qualcosa, se la tua mente è in questo stato, sai che razza di zuppa stai facendo? Sei una zuppa scadente. Non solo scadente. Velenosa. Se sei immerso in questa zuppa velenosa ogni giorno, come conoscere il benessere? Non succederà così. Non abbiamo così tanto controllo oggi nel mondo riguardo a cosa mangiamo, cosa beviamo, cosa respiriamo. Tutto è in qualche modo avvelenato. Le società moderne hanno iniziato a trattare le malattie e i disturbi come un processo naturale, il che è un grave errore. Le società antiche hanno sempre visto la malattia come qualcosa di sbagliato. Non è così che un uomo dovrebbe essere. Un essere umano non dovrebbe essere in nessuno stato di malattia. Malattia significa qualcosa di fondamentalmente sbagliato. Ma le società moderne hanno iniziato a considerare questo normale. Perché c'è un'industria che prospera su di te. Un'industria molto importante. La seconda industria più grande del pianeta è quella farmaceutica. Quindi se la seconda industria più grande del pianeta è quella farmaceutica c'è troppa zuppa scadente. Non è vero? Ogni giorno devi aggiungerci qualcosa per farla... No. Se hai volontà possiamo rendere questo una zuppa davvero meravigliosa. La chimica è in uno stato fantastico. Essere beati è naturale. Se lo fai credimi il 70% dei disturbi svaniranno dal pianeta. Per un altro 30% ci sono molte influenze esterne che non sono sempre sotto controllo. Non puoi controllarle. Solo in una certa misura. Quindi se stai costantemente creando una brutta chimica dentro di te come fa la vita dentro di te a capire che stai cercando il benessere? Come? E' ingiusto? La vita dentro di te pensa gli piacciono i disturbi e te li dà. se si avveleni il tuo sistema dall'interno e c'è una prova sostanziale che per ogni pensiero ed emozione la composizione chimica del tuo corpo sta cambiando. Se crei veleno dal tuo interno e vuoi vivere bene e vuoi vivere bene com'è possibile? La vita non funziona così a meno che tu non faccia le cose giuste le cose giuste non ti accadranno. e vuoi vivere bene Grazie.